Buongiorno, in questo video vi mostrerò alcuni semplicissimi esercizi da eseguire dopo un intervento alle piccole dita del piede. In caso di intervento all'alluce valgo gli esercizi sono leggermente diversi e vi invito a consultare la guida che troverete cliccando sul link in alto a destra che compare ora. Dopo qualunque intervento chirurgico al piede i due principali nemici per il paziente e il chirurgo sono il gonfiore residuo e la rigidità. Il gonfiore in particolare può perdurare anche dei mesi nelle persone che hanno già una insufficienza vascolare periferica. Mettetevi seduti o distesi sul divano o sul letto. Eseguite dei movimenti circolari esercitando una minima pressione con i polpastalli delle dita nella zona attorno alla caviglia. Eseguite questo movimento per circa 10 secondi. Successivamente con entrambe le dita effettuate una compressione partendo dalla punta del piede ed arrivando nella zona del polpaccio. La stessa tecnica può essere effettuata anche da un vostro familiare sempre a condizione di non superare il limite del dolore. Eseguite questo esercizio per 5 minuti due volte al giorno. Qualora il vostro chirurgo ve lo permettesse potete anche eseguire più volte al giorno dei bagni in acqua fredda e sale fino da cucina tenendo il piede in ammollo per almeno 10 minuti ogni volta. A volte ma anche in questo caso dovete lasciarvi consigliare dal vostro chirurgo è necessario usare delle calze elastiche compressive. Usate una pallina da tennis per eseguire un movimento di rotolamento in avanti e in indietro. Eseguite l'esercizio per 5 minuti due volte al giorno. L'ultimo esercizio per il gonfiore delle dita operate è quello di continuare a massaggiarle sui quattro lati per alcuni minuti eseguendo questo esercizio più volte al giorno. Passiamo ora agli esercizi per recuperare la mobilità. Anche in questo caso l'ideale è avere qualcuno che vi aiuti sedendovi al bordo del letto o del divano. Vi prego però di chiedere prima al vostro chirurgo se potete eseguire questo esercizio che è indicato solo nei casi in cui l'articolazione non sia stata bloccata. Questo tipo di intervento si chiama artrodesi. Se il vostro chirurgo vi dà il permesso di eseguire l'esercizio tutto quello che bisogna fare è afferrare con le due dita di una mano la parte da tenere ferma e con le due dita dell'altra mano la parte da mobilizzare eseguendo dei movimenti sempre più ampi verso il basso e verso l'alto. In altre parole cioè bisogna iniziare cercando di mobilizzarlo poco all'inizio e aumentando sempre di più volta dopo volta la mobilità del dito cercando di non oltrepassare il limite del dolore. Idealmente questo esercizio può essere cominciato non prima di tre settimane dopo l'intervento chirurgico proseguendo poi nel corso delle settimane seguenti. In questo video adesso vi mostro lo stesso esercizio ma visto da un'angolazione diversa. L'esercizio può essere ripetuto molte volte al giorno tenendo presente che sarà bene dedicarci almeno 5 minuti per due volte al giorno. Per il prossimo esercizio cercate semplicemente di muovere verso l'alto e verso il basso le dita del piede ripetendo più volte al giorno. Mettete sul pavimento un grosso pennarello e tramite un movimento di flessione attiva delle dita cercate di afferrare e mantenere l'oggetto con le dita del piede. Mantenete la contrazione 5 secondi e ripetete l'esercizio 10 volte.